Pronti a far fuoco la battaglia perdiamo terreno reagite la battaglia perdiamo la battaglia Ok, ok Granata lanciata Bersaglio eliminato UAB, nemico in volo Nemico, mulino a vento Nemico, edificio distrutto Nemico Stiamo avanti Stiamo avanti Sì, sì, sì. UAB in zona. Pronto al sorbolo. Qui Jaguar 3-0. Confermato. Fattugliamento UAV iniziato. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare riferimento. Siamo a metà strada. Combattete! Bombardamento di gestione pronto. UAB alleato in sorbolo. Avvio scansione radar. Vissile cruis alleato partito. Delico, barile. Qui Stranger 3, ricevuto. Attacco in corso. L'elicottero d'assalto è avviato in sorbolo. Colpi fuori bersaglio. UAB alleato in sorbolo. Avvio scansione radar. Nemico, pieni le. UAB alleati in scrivere. Terziure. UAB alleati. U.A.B. alleato in sormono, avvio scansione radar. Bombardio, attacco a grappolo alleato in derrivo. Stryker 3-2 pronto, è in attesa di ordine. Guardi al meaggio solo solo! Avanti così! Attacco a grappolo alleato in derrivo. Fenomenale! Non mi aspettavo altro. Grazie a tutti!